Tra le categorie maggiormente colpite dagli ultimi eventi naturali in Abruzzo c'è quella dei commercianti. A Teramo soprattutto, dove tanti cittadini hanno scelto di trasferirsi sulla costa, sicuramente per eccesso di allarmismo, la situazione sta degenerando di ora in ora e le risposte dalle istituzioni non devono tardare ad arrivare perché l'autonomia economica di queste attività è diventata esigua. Ma voi di cosa veramente avete bisogno in questo momento? Noi abbiamo bisogno di un aiuto serio, di un aiuto che arrivi dal governo ma deve essere la nostra regione a rappresentarci. Noi siamo stati zitti fino adesso, continueremo a stare zitti per rispetto anche di tutto quello che è successo intorno a noi, però iniziamo veramente a sentirlo. Noi è d'agosto che tra una cosa e l'altra stiamo tirando la corda, è d'agosto con le scosse di agosto che Teramo vive in un clima di terrore. Se non ci danno una mano adesso, io non so per quanto tempo i negozi a Teramo potranno andare avanti. Io non posso pensare che un teramano voglia trasferirsi, voglia lasciare questa città. Io non mi fa orrore pensare che questa città si debba, si possa spopolare, assolutamente. Dobbiamo continuare a combattere noi in prima linea e in prima fila. Disperati più degli altri, i commercianti del Corso San Giorgio che hanno già dovuto subire un cantiere per oltre otto mesi a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione, lavori attualmente fermi e non si sa perché. Una volta completato il Corso Nuovo di Teramo sicuramente sarà bellissimo e diventerà una grande attrazione, sì ma quando? Innanzitutto credere più nella città propria, innanzitutto credere in quello che si fa, innanzitutto dare dei servizi buoni. Il commercio dopo gli ultimi avvenimenti è veramente in crisi dal momento che le scuole sono chiuse, le persone sono giustamente fuggite perché non si sentono sicure nella propria città. Penso che sia un discorso che va molto indietro. La politica probabilmente ha fatto delle scelte sbagliate e non ha programmato soprattutto. Una città che non ha un programma, che non ha programmazione, a mio avviso non ha futuro. Le parole d'ordine oggi tra i terramani sono resistere, fare acquisti in città, stringere i denti e restare uniti perché, come dice il vignettista Ivan Di Marcello, nonostante tutto Teramo fa a mattì.